Sorsi Divini, un viaggio alla scoperta dei sapori locali, dei sapori tradizionali, quali quelli del nostro territorio, ma specificamente del territorio da un ufantino, trattandosi appunto di uno degli eventi sponsorizzati dal GAL, il quale si inserisce all'interno del Festival. Pubblico numerosissimo anche stasera, dopo il successo della cena bianca di giovedì scorso. Ho qui ai microfoni di Manfredonia News il signor Francesco Libergolis, il quale è ormai prossimo a degustare questi crostini alla caprese accompagnati da un ottimo vino bianco. Signor Francesco, cosa ha la spinta a partecipare qui questa sera? È importantissimo accrescere la cultura dei prodotti nostri tipici locali, è fondamentale insomma. Quindi poi buon vino, un'ottima caprese, perché rifiutare? Beh allora noi la ringraziamo innanzitutto per averci rilasciato questa intervista ai nostri microfoni, ma soprattutto la lasciamo a quest'ottima sicuramente degustazione.